perché fissare gli occhi su dio sia che tutto vada bene sia che ultimamente ti sia trovato o trovata in una situazione difficile tieni gli occhi fissi sul signore e fidati di lui ti terrà vicino a lui i miei occhi sono sempre fissi sul signore perché solo lui mi libererà i piedi dalla trappola salmo 25 15 quando il sole splende continuare a confidare in dio ti aiuterà a ricordare che egli è la fonte della tua serenità della tua pace niente in questo mondo nessuna persona istituzione o potere può sostituire chi dio è per te o cosa ha fatto per te e quando nulla sembra in grado di spostare le pesanti nuvole sopra la tua testa la fiducia in dio ti permette di tenere gli occhi fissi su colui che è la risposta piuttosto di focalizzare sui perché coltiva continuamente la tua fiducia in dio e ricevi la sua pace la sua stabilità e la sua serenità confida in lui nel bene e nel male nella malattia e nella salute nell'abbondanza e nella povertà oggi ti incoraggio a fidarti di dio e a mantenere il tuo sguardo i tuoi pensieri fissi su di lui fidati di lui grazie di esistere eric se le rie